Ma a Pechino, scusami a Tokyo, pensavo all'Olimpia di venire nel 2022, magari fai anche quelle, che ne sai? Beh, Pechino 2022 no, magari Milano Cortina nel Bob, io un pensiero ce l'ho fatto. No, inizieremo la stagione più importata sui 100 metri. La staffetta sicuramente, a meno che una ventina di squadre non ci supera nel ranking, però mi auguro proprio di no. Durante la stagione faremo sicuramente anche qualche 200 metri per capire un po' su cosa posso giocarmela meglio a Tokyo e decidere in caso se farli tutti e due, sia a Tokyo che poi gli europei. Io mi sento più improntato sui 100 metri, mi sento un po' più sicuro sui 100 metri e quindi anche mentalmente sono un po' più focalizzato sulla gara più breve, però non escludo anche qualche uscita sui 200 metri. Grazie. Grazie.